L'impressione è che ci siamo fatti sfuggire qualcosa di quasi concretizzato, molto per demerito nostro, perché sicuramente nell'azione delle espulsioni del portiere, della quale non posso dire, perché non è che mi sono reso conto di quello che ha fatto, se l'ha preso o non l'ha presa, abbiamo perso una palla dove potevamo fare gol e poi invece è successo tutto quello che è successo, pazienza insomma, abbiamo fatto due a due e accettiamo quello che è il risultato del campo. Come vede comunque i ragazzi alla sua prima uscita da mister? Dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti, siamo una buona squadra, giocatori che giocano bene la palla, forse c'è qualcuno che magari si intestardisce un po' troppo, dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto là, bisogna essere un pochino più squadra e un po' meno individualisti, tutto qua. Questa domanda, le condizioni di sé, se hai avuto? Eh, ha preso una bella botta sul piede portante, dove era il piede d'appoggio, adesso non so, vado a vedere un attimo quello che si è fatto, ma credo che qualche cosina insomma di serio si sia fatto, perché vedo che ancora Zoppica mentre vanno spogliato, vediamo un attimo adesso.